Per tre mesi gli alberghi dell'Umbria hanno dato rifugio a centinaia di terremotati. Un'ospitalità completa, colazione, pranzo e cena a prezzo ridotto. In media una quarantina di euro al giorno a persona, spese anticipate interamente dai proprietari. Alcuni di loro aspettano ancora di essere ripagati. Per ottenere il rimborso gli albergatori devono attenersi in una procedura piuttosto complessa che prevede diversi passaggi e coinvolge IMSS, Regione, Agenzia delle Entrate e Federalberghi. Ogni più piccolo errore rischia di far ricominciare tutto da capo. In una selva di codici, documenti e autorizzazioni speciali, gli errori burocratici sono dietro l'angolo, con i relativi ritardi a catena nei pagamenti. Su ognuno di questi settori, con ognuno di questi enti purtroppo abbiamo avuto dei problemi e a tuttora quindi non ci sono pervenuti ancora i pagamenti. Insomma, troppi gli enti coinvolti nelle procedure di rimborso, con conseguenze che, in una situazione già critica, hanno un peso specifico ancora maggiore. Il fatturato è all'incirca il 8-10% più basso rispetto al 45% delle statistiche. Quindi se 45% in meno di presenze è fatturato 50-53-55%. Per il turismo e per gli albergatori, il 2016 si conferma così un anno da dimenticare, sotto tutti i punti di vista.